È stato raggiunto l'accordo per l'interramento della ferrovia San Giovanni e Tiatino dove lei tiene a precisare non sorgerà nessun muro. Sì, abbiamo scongiurato il pericolo del famoso muro di Berlino che doveva sorgere in San Giovanni e Tiatino. Qui siamo già con la ferrovia interrata e questo sarà un passaggio a raso che permetterà tra parentesi la ricucitura del paese. Questi 540 metri permetteranno di avere una vivibilità diversa, più tranquilla e più sicura a questa bella nostra realtà. Ci troviamo in un altro punto del tracciato ferroviario alle nostre spalle e qui cosa accadrà? Ci sarà un altro interramento? Da qui inizia l'interramento, circa qualche decennio di metri dopo via Pertine verso Pescara. Inizia l'interramento e qui ringrazio veramente i progettisti di RFI, Talfair, tutti quanti i gruppi che unitamente alla politica hanno capito qual era il nostro problema e da qui iniziamo con il famoso mio discorso salvezza di San Buceto, San Giovanni e Tiatino. Cioè un interramento che poi proseguirà per circa 540 metri fino a portarci fuori del passaggio di Corso Italia. Sindaco, è vinta la battaglia per l'interramento della ferrovia, c'è un'altra battaglia da portare avanti? Sì, quello della difesa e alla difesa di chi perderà l'abitazione o di chi rimarrà molto vicino alla linea ferrata, quindi avrebbe purtroppo problemi per quanto riguarda la nostra città e quant'altro. Quindi qui adesso inizieremo un nuovo discorso, un nuovo trattativo con RFI, Talfair, per appunto dare il giusto ristoro a chi merita e dare loro veramente pace e non solo dolore come oggi stanno avendo. Qui alle nostre spalle sorgerà la stazione ferroviaria di San Giovanni e Tiatino? Sì, abbiamo discutito probabilmente di chiamarlo la stazione di San Buceto o di San Giovanni e Tiatino. Cioè non possiamo perdere questa cosa importante, cosa che già abbiamo perso purtroppo con l'aeroporto, perché noi oggi ospitiamo circa il 60% dell'area aeroportuale, però non si parla di San Giovanni e Tiatino, San Buceto assolutamente, cosa che mi dispiace. Così come purtroppo succede anche con l'autostrada e c'è lo svincolo tra l'autostrada San Buceto e San Giovanni e Tiatino, no Pescara Ovest. Noi esistiamo, vogliamo esistere ed esisteremo perché vale la pena di parlare di noi, che alla fine siamo e resteremo sempre quelli che vogliono lottare per il bene e la crescita del Paese.